E' solo questione di tempo prima che mi scontri con chi ha più poteri di quanti io possa sconfiggere. Scusami, ho fatto tardi. Problemi di traffico. Questi problemi di traffico hanno a che fare con, non so, con qualcuno che ti spara addosso? Sì, certo, hanno a che fare, hanno a che fare, sì. Ti tiene sotto controllo. Perché? Questa è la domanda del giorno. C'è qualcosa che non mi stai dicendo, zia May. Una volta ti dissi che i segreti hanno un costo. Anche la verità. Non tutte le storie hanno un lieto fine. Ma che cos'è? E' una cosa più grande di te. Io ho fatto una scelta. Questa è la mia strada. Presto tutti in questa città sapranno cosa si prova a vivere in un mondo senza potere, senza pietà. Senza Spidermen.